Sono totalmente stranea ai contenuti delle dichiarazioni che, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa e dai giornali, l'imprenditore Angelo Capogna avrebbe rilasciato agli inquirenti e la dichiarazione di Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico, coinvolta in una inchiesta giudiziaria relativa alla ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Ho saputo che sarei indagata dai giornalisti, ha aggiunto, che mi hanno chiamata per chiedere le spiegazioni, ma non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Confido, come sempre, nella magistratura che sono certa farà luce su questa oscura vicenda e arriverà alle giuste conclusioni. La Pezzopane ha tenuto a precisare che smentisce con forza quanto avrebbe detto Capogna ai magistrati e avrebbe letto sulla stampa, sottolineando come queste notizie emergano in piena campagna elettorale per le amministrative di Giugno all'Aquila ed Avezzano. Una tempistica, continua ancora la Pezzopane, che insospettisce su un uso strumentale di queste accuse. Al centro dell'indagine della procura di Avezzano ci sarebbe una presunta associazione per delinquere su un giro d'appalti in alcuni comuni della Marsica, che vedrebbe anche un possibile caso di finanziamento illecito ai partiti. Angelo Capogna, originario delle Frusinate, è l'amministratore della Sari 2 SRL, che avrebbe gestito la pubblica illuminazione in numerosi comuni della Marsica. L'uomo avrebbe raccontato agli investigatori della squadra mobile aquilana di due consegne di denaro, entrambe da 5.000 euro, a Stefania Pezzopane avvenute durante le elezioni alla provincia dell'Aquila nel 2010, quando la senatrice ricopriva la carica di presidente dell'ente. La prima d'azione, stando al racconto trascritto dagli investigatori, sarebbe avvenuta all'interno della sede elettorale, la seconda invece negli uffici container, il periodo era quello post terremoto dell'Aquila del 2009, d'azioni entrambe alla presenza di testimoni. La senatrice aquilana è indagata dalla procura di Avezzano per finanziamento illecito ai partiti.